Prima per rendimento esterno contro terz'ultima in quello casalingo, nei numeri Montesilvano Torrese è indirizzata verso un risultato, l'ultima parola aspetta come sempre al campo. Antignani e Cristofari che hanno partecipato allo stesso corso per diventare allenatori inseguono obiettivi diversi ma hanno dimostrato di avere stoffa per sedere sulle panchine di eccellenza. Fischia Patrizio Novelli di Vasto. Pronti via e Santirocco si ritrova un ottimo pallone davanti a Ubertini riflesso felino del portiere che esce e blocca il pallone. Lupinetti, Petito, Majorani esce palla al piede la squadra di Antignani. Sul cross del numero 8 arriva Cavallucci che conclude malamente. Il più ispirato del primo tempo è decisamente Tommaso Lupinetti. Il suo tentativo sfiora la traversa. Successivamente il classe 2005 si rende pericoloso con un diagonale che finisce fuori. Nella ripresa ancora tanto Montesilvano. Cavallucci prova da fuori, Camaione e Mboup sventano la minaccia. Cross avvolgente di Besimmaloku, il fratello Leonardo prolunga il centro perpetito che di testa pecca di precisione. Nel momento migliore dei padroni di casa la Torrese ha un sussulto e passa in vantaggio. Gentile suggerisce per Grauberg, diagonale chirurgico del 2001 che bacia il palo interno e finisce in rete. 1-0 teramano con il sigillo dell'Estone alto 197 centimetri ma evidentemente bravo anche con i piedi. Il Montesilvano non si scompone. Punizione fantastica di Samuele Barbarossa che vale l'immediato pareggio. Davvero una traiettoria imprendibile per Camaione e tutto da rifare per la squadra di Cristofari. La gara sembra cambiare direzione quando Leonardo Malocu riceve il secondo giallo e va sotto la doccia lasciando i suoi in dieci negli ultimi 15 minuti. Ma il calcio non è una scienza esatta e la dimostrazione arriva prontamente. Leonardo Piovani si prende la scena destro che prende velocità con rimbalzo e ribaltone verde oro. Primo gol in eccellenza per il classe 2003 ed esultanza smisurata dei pescaresi. Nel recupero la Torrese ha la chance per tornare almeno con un punto a casa ma Festa si allunga il pallone e da posizione defilata non trova la porta. La Torrese perde l'occasione per accorciare in classifica dalle prime della classe. Il Montesilvano fa sul serio e mostra tutta la sua forza. Mister Cristofari nel momento di maggiore difficoltà siete riusciti a portarvi in vantaggio però poi cosa è successo? Niente è successo che per tutto l'arco dei 90 minuti secondo me l'Acqua e Sapone ci ha sovrastato senza mezzi termini. Secondo me abbiamo fatto fatica ad interpretare la partita sapevamo che era una partita difficile. L'Acqua e Sapone ha meritato di vincere la partita quindi al di là dell'episodio del gol di vantaggio che ci poteva dare qualcosina in più ma insomma l'Acqua e Sapone non si è persa d'animo ha continuato a fare tutto il gioco che ha fatto durante tutto l'arco della partita ha trovato il gol su questa punizione poi nonostante l'inferiorità numerica ha comunque continuato a giocare noi invece arriviamo sempre secondi su ogni pallone, eravamo lunghi insomma non mi è piaciuta assolutamente la partita ma avevo detto ai ragazzi che per vincere queste partite o comunque per portare a casa il risultato positivo da adesso alla fine saranno tutte battaglie come quelle di oggi secondo me non siamo stati bravi ad interpretarla e mi auguro che già da domani iniziamo a cambiare atteggiamento perché per vincere le partite c'è bisogno di fame, di cattiveria e di voglia e oggi tutto questo non l'ho visto. Quanto pesano le assenze soprattutto oggi quella di Tini? Sì Alessandro è un giocatore importante, ne abbiamo fatto a meno anche in altre partite è normale che lui lì nel mezzo ci dà qualcosina di diverso, qualche geometria in più però insomma ripeto non è questione dell'assenza di Tini insomma chi l'ha sostituito anche in altre occasioni ha fatto bene purtroppo oggi siamo mancati in troppi uomini e questo mi dispiace perché per me oggi era una partita fondamentale, l'avevo detto ai ragazzi avevo chiesto una prestazione di grande maturità purtroppo non c'è stato, diamo merito al Montesilvano che ho visto una squadra che secondo me con questo spirito si salverà quanto prima. Mister Antignani un successo meritato e soprattutto è arrivato in inferiorità numerica questa dimostrazione della forza e della bontà della vostra squadra. Successo meritato? Sì ho fatto i complimenti ai ragazzi perché abbiamo affrontato una signora squadra già lo dicevo venerdì quando abbiamo fatto la conferenza stampa loro sono diversi anni che costruiscono, sono diversi anni che stanno lì su e meritano di stare lì su. Oggi i miei ragazzi li ho visti subito da quando sono entrato nello spogliatoio avevano uno sguardo diverso, c'era proprio la voglia di fare l'impresa ci siamo riusciti in dieci dopo che abbiamo preso gol ci siamo fatti gol da solo praticamente perché è stato un errore nostro in fase di impostazione e abbiamo cambiato dopo l'espulsione il modo di giocare Benvenga che ha segnato un 2003 che ha fatto tra l'altro anche un grande gol contro una grande squadra ripeto. Ecco mister un plauso proprio a Samuel Barbarossa che ha fatto un gol bellissimo su punizione e poi Piovani ha il suo primo centro in eccellenza. A Barbarossa facciamo un plauso dopo che gli facciamo una tirata di orecchie perché è partito da lui l'errore del primo gol e poi si è rifatto alla grande. Piovani ha fatto un grande gol però permettimi di dire che i ragazzi sono stati ingommiabili tutti quanti dal primo dal portiere fino all'ultimo che è stato in panchina abbiamo stata una vittoria di gruppo, una vittoria di squadra, una vittoria che ci dà la consapevolezza ulteriore che ci siamo anche noi. Ci siamo anche noi ma per cosa? Per la salvezza diretta, anche perché il resto è troppo lontano. Poi loro sono costruiti per fare altri tipi di campionati. Noi ci siamo per lottarcela con le squadre pari a noi per la salvezza diretta, speriamo, senza passare dai play-out. La Torrese era la squadra che aveva fatto più punti in trasferta, il Montesilvano era la terz'ultima squadra che aveva fatto meno punti in casa, però il calcio è strano, parla sempre il campo alla fine. Sì, hai detto bene, il calcio è strano, parla il campo, parla secondo me il lavoro che fai durante la settimana considerando che noi, ripeto, abbiamo citato prima Barbarossa, Barbarossa questa settimana non si è allenato mai perché ha fatto sempre il turno di pomeriggio, quindi è venuto a giocare senza fare nemmeno un minuto di allenamento. Nonostante la difficoltà, il ragazzo dopo l'errore si è ripreso, ha fatto un grande gol, ha portato i compagni alla vittoria. Ecco, mister, oggi è anche un pizzico di fortuna perché si fa male Marrone dentro Piovani che decide la partita. Sì, 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 vabbè, ma Luca già stava da stamattina, non stava in perfette condizioni, quindi nello scegliere la formazione mia figlia ce l'aveva previsto.